Altro che fra diavolo, mi sono ricordato. Chiavone. No, non è una parolaccia. Chiavone è uno dei più famosi briganti ai tempi dell'unità d'Italia, che poi proprio da qui assaltò Sora il 3 dicembre 1860, sì, e scese da Madonna delle Grazie, la chiesa, su, e via, giù, un macello. Ma dottore, ma lei è preparatissimo anche su questa storia? Ma non è vero, l'ho detto, l'ho letto su internet, anzi c'è un mio amico, Aurelio, è un fissato, mi ha fatto una testa così su Chiavone, ma anche su altri briganti, ma poi ci sono pagine Facebook, basta informarsi.